eh buongiorno mi chiamo Massimiliano Carboni eh sono un un analfabeta digitale ma molto presuntuoso quindi pretendo di sapere cose che spesso non non capiamo nessuno di noi capisce. Eh parte dell'intervento che volevo fare è stato benissimo sintetizzato dall'intervento precedente anticipato però alcune cosine le volevo riprendere eh mi piace partecipare ai dibattiti quando poi si sta nelle cose che dicono i relatori mi piace tantissimo quando poi noi rispondiamo e parliamo veramente con i relatori. Il primo relatore di cui non ricordo il nome perché una ok ha detto una cosa molto interessante tra le tantissime che ha detto molto interessanti che è quella dell'elemento della feudalesimo ok contesto eh apriamo il giornale in questo momento Elon Musk è uno degli attori principali nei vari scenari di guerra cioè scoppia la guerra in Ucraina Elon Musk dice la sua scoppia la guerra cioè non scoppia nessuna guerra la guerra c'è da settant'anni comunque ehm succede quello che sta succedendo ora in Palestina e in Israele Elon Musk è uno degli attori principali perché perché possiede i carri armati cioè possiede quello che diceva Stalin chi ha più carri armati vince e infatti lui ha l'hardware lui ha i satelliti lui ha i pezzi pesanti ha l'artiglieria pesante e quindi entra su un teatro di guerra e dice la sua e chi è Elon Musk? Qualcuno di noi l'ha eletto? Non mi sembra ok quindi il primo problema secondo me che si può ridibattere partendo da quel da quel suggerimento lì è proprio questo parliamo di lavoro parliamo di crisi o comunque trasformazione dei del sistema lavoro non parliamo mai di possesso pubblico dell'hardware quindi noi siamo abituati a mandare le nostre mail in California perché le deve vedere mia madre a Montesacro io le mando da San Lorenzo le mando in California e poi lei le legge a Montesacro non abbiamo mai parlato in questo paese del fatto che questo paese non ha un vero e proprio non ha mai avuto una politica sull'hardware non abbiamo mai fatto nessun progetto pubblico di mantenimento del dato a casa nostra no? Siamo abituati a questo e questo è un fatto parliamo di software ma non parliamo di hardware seconda cosa parliamo di lavoro di trasformazione del paradigma del lavoro ma non parliamo del fatto che noi siamo degli europei ancora in qualche modo eh ben pasciuti questa maglietta costa sei euro io non so chi l'ha fatta ma non è stata fatta in Europa e quindi noi teniamo fuori tutti e parliamo di lavoro e di come aiuto aiuto ci si trasformerà il mondo del lavoro ma mondo del lavoro quale? Quello nostro ancora in qualche modo forse è il caso che apriamo il panorama apriamo il paradigma e capiamo che noi in questo momento già viviamo una trasformazione radicale del mondo del lavoro quindi questo è solo la l'ulteriore elemento che forse dovremmo inserire mi piacerebbe che si parlasse anche di questo scusate parlo malissimo in pubblico terza cosa eh sì no mi affatico però terza cosa è stato citato ce ne sono tantissimi sono venute in mente insomma velocemente è stato citato molte volte lo sciopero degli attori questo eh il collettivo eh rivoluzionario degli attori di Hollywood fantastici li amo già tutti voglio voglio iscrivermi al loro partito hanno ottenuto questa cosa che quando usano il loro avatar li pagano bellissimo quando un attore di Hollywood si muove si muove il trucco parrucco eh l'albergo ehm si muove eh il catering si muove il l'elicottero se se è uno se uno particolarmente potente si muove il camper cioè si muovono decine di persone cioè quando si muove Tom Hanks si muove un paese praticamente ecco tutto questo paese non si muoverà più punto e basta Tom Hanks prenderà i soldi eh Harrison Ford prenderà i soldi noi andremo ad applaudire se abbiamo i soldi per il biglietto se no ce lo vediamo a casa Netflix magari scuottandolo o facendo hackerandolo e basta fine della questione 40 secondi ok e io temo come diceva bene eh prima Marco Calvo giusto? Scusa no Paolino scusa ehm eh c'è una questione eh qualche anno fa io sono cresciuto in un mondo dove si dibatteva su questi due slogan lavoro non lavoro salario garantito oppure il potere deve essere operaio e ci si davano le mazzate su questo cioè io ho preso tante bastonante dalla CGL per questo me lo ricordo anche ombrellate insomma ora quindi eh e questa però è la questione allora l'operaio non servirà più o comunque non sarà più quello che noi abbiamo riconosciuto e il lavoro non ci sarà più come giustamente ha spiegato bene l'intervento di prima e quindi rimane il problema del salario ora non sarà più il salario ma rimane il problema di vivere e questo credo che sia uno dei pezzi ho finito del dibattito che vanno inseriti nel dibattito sul lavoro quale futuro grazie a tutti